marcoma di... ho staccato le cuffie parlatemi no aspettate aspettami parlami adesso ok frizzavano un po' le cuffie che è il problema delle più undici ogni volta eccomi amici io volevo invitare anche Vector ma mi sa che ancora non c'è quando arriva poi gli diciamo di entrare perché io non sono d'accordo Giazzaro ha ancora il tremone in casa? Giazzaro oggi stamattina ha il tremone in casa purtroppo purtroppo c'è questo piccolo uomo che si tocca ma non c'è ma che casino Marco ah ma si sentiva casino quando facevo roba? ma non ho toccato il microfono mi sa strano ma che cazzo c'entra il microfono con le cuffie? e come fanno a sentire casino loro? no no Marco e vedi infatti non è possibile anche perché l'ho già fatto altre volte il live non è mai successo una serie piccolo Dav grazie mille e anche grazie al pollo Giorgio per i quattro mesi che li ha fatti nel pre-live grazie mille meno male meno male Mary questa mattina finalmente giochiamo ad Assassin's Creed Valhalla ragazzi che cosa che non ho per niente fatto questo weekend assolutamente figurati non ho fatto le 3 di mattina non ho fatto le 3 di mattina no no figurati ho andato a letto le 5 sabato sera per battere una merda di strega assolutamente assolutamente ah amici belli io che vi devo dire questo va là tra l'altro ho guardato sono a 20 ore di giochi quindi sono anche bravo non ho fatto tutte queste ore fammi andare a vedere tu ne avrai di più di me io so non lo dice Ubisoft quando entri te lo dice il salvataggio però teorizza statistiche ah 42 ore sperando siano vere perché ho visto che sono sbarellate quelle ore lì di Ubisoft beh allora ci sono stati momenti dove ero un po' FK quindi metti non so un 42 sono sicuramente 38 vabbè ci stanno l'altro dicevano che solo la trama principale intorno alle 30-40 ore intanto sopra stavano distruggendo un armadio che cazzo è possibile che la trama principale è così tanto hanno detto 30-40 ore e se vai a vedere su allontubit dice 54 ma in altri siti ho visto 30-40 quindi secondo me allontubit ha fatto anche qualche altra hanno fatto anche qualche altra secondaria roba del genere però ti dico non mi è mezza mai passata la voglia di giocarci è fastmofobia paroco finchè non lo aggiornano è sempre la stessa roba quindi anche basta sappiamo che va bene il live dal punto di vista monetario dovremmo farlo però se mi rompo la balla dopo già la terza live era entra Andonio 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 come fa come fa come fa ma l'ontubit dipende dai tempi inseriti nella community se non erro e magari uno ha scritto 60 l'altro 20 ha fatto una media non so comunque secondo me 30-40 ore ci sta come trama principale considerando anche che Odissi considerando che Odissi durava quella roba lì hanno detto che più o meno era come Odissi come trama principale ci può stare 30-40 ore e io non credo che lo finirò perché? perché durò veramente un botto e sto facendo tutto eh sì e il fatto è che tra un po' esce Miles Morales e quindi cioè in realtà è più probabile che inizio Miles Morales lo finisco e poi riprendo Assassin's Creed perché dura pochissimo Miles Morales però volevo farmi un gioco alla volta per Demon's Souls così lo faccio solo in live e fuori ti dedichi ad Assassin's Creed vabbè ci sta oh comunque appunto io come dicevo anche ad amici parenti ho fatto le tre alleanze e adesso devo andare avanti io sto finendo la terza manca proprio l'ultima cosa della terza alleanza e poi dopo non lo so ma anche perché c'è un botto di mappa che ancora non ho visto quindi dovrò andare senti senti che casino sto facendo mi chiedo solo questo senza fare spoiler tu l'hai costruita la casa della veggente la casa della veggente no non ricordo niente del genere allora non ti dico un cacchio a me l'unica cosa che mi dispia no non lo posso dire però perché spoiler anche se vi di cioè anche non vi direi la cosa principale che fa spoiler però non dicendo ve la vi faccio spoiler lo stesso quindi non dico niente valerio grazie mille grazie mille per i tuoi non so se sentite cosa sta succedendo sopra di me non so questa mattina guardate sto mangiando degli M&M's è Voldemort qui è il filtro di Voldemort è comunque meglio della mia faccia e più che altro Vector vuoi venire perché volevo invitarti ma non ti ho visto in chat prima è veramente fatto di merda come gioco erano finiti i nomifighi e Silverotti grazie mille entrambi bellissimi io ho ogni giorno una quantità di problemi e bug che Silver mi dispiace un sacco Silver mi raccomando forza direi che andrà tutto bene dai 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 no è pieno di problemi a livello tecnico però a me il gioco sta piacendo un sacco che vi devo dire mi diverto a combattere mi diverto a fare le missioncine delle balle poi girano sempre i coglioni perché appunto prompt dei comandi che non compaiono e missioni che si buggano io non ho preso un tesoro perché non mi fa spostare il carrello davanti e io ho dovuto uscire l'entrae dal gioco perché devo fare una presente ci sono quelle gli eventi quelli dei sassi che devi mettere in piedi sassi e non mi compareva il cazzo di prompt per avviare la roba e vaffanculo eh non so perché ogni tanto c'ha sti momenti di assento in balalla però a me sta piacendo tanto e ve lo consiglio se avete giocato già gli altri assassin's head meglio però in realtà appunto una delle robe che volevo dire è che vorrei un po' più di trama principale non per quanto riguarda Eivor capiamoci capiamoci perché Eivor la trama di Eivor è base ma è molto carina alla fine eh sì può dare anche perché appunto quello che volevo dire era che per adesso penso 20 minuti beh a parte che te sei molto indietro cioè siamo molto indietro come gioco eh ma se dura 30 ore no beh però ho fatto anche secondaria eccetera io quindi no sì siamo indietro mi gioco dei sassi a te come sta andando che senso mi gioco dei sassi dei sassoni quindi è sempre assin crit valalla saluto mi hanno colpito ma la maledizione mi hanno sconquassato ma la maledizione ragazzi 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 no 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 sei fatto no 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 moro tu non hai idea tu non hai idea moro tu non hai idea tu non hai idea non me l'ho detto ma tu non scopo veramente ero su mv2 ho sentito la musica di ronio pipipo pipipi perché non stiamo prendendo dove cazzo è questo eh io devo entrare dalla finestra ma senti cosa stanno combinando sopra casa mia ma dov'era ma cosa fa marco madonna il nuovo cognome amici tra l'altro a proposito di ron me la gode eccetera ho visto un botto di video di dread sto weekend mi intrattengo ragazzi è bravo a parlare io non ce la fa io voglio parlare come lui tamarro no cioè loro sono molto più giovani di noi assolutamente però non intendevo quello intendevo il fatto che dread è un continuo cioè lui non è non ci sono tempi morti se tu sei con dread se tu stai guardando qualcosa di dread non ci sono tempi morti ma perché di roma i romani si è vero che hanno un po' più di verve in questo senso però è proprio lui che non è una macchinetta di battute di concetti è incredibile dread è incredibile è veramente incredibile ma perché è romano io sono romano perché sono dell'anno io sono romano come i neri che ballano non è vero non credo come no ecco hai mai conosciuto un nero a cui non piace ballare? un compagno di basket faceva delle grandi schiacciate ma era un tronco non so un saluto che adesso è in eurolega tra l'altro ha fatto carriera a differenza mia che sono qua ma che cazzo ti so per cosa perché sei razzista forse signor sei omofobo omofobo? non so cosa c'entrata c'entra ragazzi cercate Howard St. Ross ve l'avevo già detto era un mio compagno di basket adesso in eurolega non mi ricordo se gioca con in turchia o dove adesso bravissimo ma sono sempre lì dove no era una salta grande adesso ma io che ho preso ok attivazione codice non l'ho presa vec ti ridico se vuoi venire non ti preoccupare ci fai solo che piacere almeno siamo uno in più che conosciamo a meno che a meno che c'entra vado non andare troppo a destra ti hanno scompassato hanno rotto le barriere architettoniche oh my god mi spara no non è una posizione ottima questa qui mi sto scegliendo non è una posizione ottima lo so mi sto arriviamo a leggervi eh arco you have you have healed si però non sto facendo i movimenti che è un po' ma questo era ancora live no avevo cliccato quando era il mirino sulla sua testa ma mi ha sparato prima lui porca miseria vai lezzar sei solo tu uno contro uno siete è al posto così tanto sopra io non lo so cosa stanno facendo ma uno con un piccolo martello che picchietta sulle piastrelle qua sopra non so e magari è così marco è l'amico chi è l'amico che gioca in eurolega Howard Saint Ross Howard è scritto come Howard Dwight Howard Saint Ro con due O e W ha fatto con me tutte le giovanili nella gera e poi dopo è andato ti banerei per davvero stamattina non so chi prendere che missioni devo fa Capcom via casualities gli azzare in preda al panne gli azzare gli stanno rifacendo il bagno ma non il suo io questo ricordo una partita che ho fatto una delle varie che ho fatto con Howard questo mio amico qua che avevo fatto un botto di assist io e tipo in quella partita avevo fatto solo quattro punti una roba del genere grazie mille adb grazie mille grazie avevo fatto tipo solo quattro assist ma avevo fatto quattro punti ma avevo fatto un botto di assist perché qualsiasi pallone gli davo era canestro quindi continuavo a dargli palla mi riempivo il referto di assist e lui c'era il canestro è quello cubano esatto è il ragazzo cubano e non ero play in quella partita tu dici sei playmaker il tuo lavoro no ero guardia come sempre però devo fare un botto di punti ma non si apre qui cazzo si ah ma che bello aglio non so dove gioca adesso però non saprei dove gioca ora dovrei guardare su wikipedia ma sono già entrato sempre dal pane mi sa che entrano di qui eh mi ha sfondato stanno sfondando le cause qua no non voglio niente sono qua dietro amici dobbiamo ringraziare le persone aspettate si non mi metto il cardellino non ho preso nessuno chiaramente allora dobbiamo ringraziare vash adb no vash era quello che dovevamo ringraziare e poi il cardellino oh mio dio è passato salvatore aranzubat grazie mille siamo a 6 grazie mille bello attento rumori ragazzi è pieno di genji ne metto anche uno qua metti uno per ripararsi entra qua dentro e niente ormai era finita la pacchia ragazzi sparo ma non passa ma sono dentro e zar qui si sono dentro eh no che cazzo era ho colpito ma non l'ho uccisa no no vash assolutamente becca ha detto per le 12 si infila su rainbow cosa becca ha detto per le 12 si infila taiga grazie mille grazie taiga grazie mille per gli 8 mesi bello comunque niente ho visto un sacco di video di dread mi ha tenuto compagnia e lo saluto lo ringrazio forza roma basso lazio che appunto è una roba che dice anche lui ma è una cosa che io dico da un sacco di tempo anche prima di seguire lui vero una roba abbastanza famosa penso daie eccola lì tanta la romanaccia si gioco al panatinaikos che è in Grecia mi sembra panatinaikos a proposito di roma ragazzi ho bisogno del vostro aiuto perché Grecia una cosa molto carina fatela anche voi tra i vostri amici soprattutto quest'anno praticamente c'è questo sito dove tutti i partecipanti mettono la propria mail e alla fine estrae sarebbe a destrazione e manda a ogni persona che ha messo la partecipazione manda la mail manda la mail con chi è il suo secret santa quindi a chi dovrà fare il regalo quindi se siete in tanti amici e non volete fare il regalo a tutti quanti perché sennò diventate poracci è una cosa molto carina faccio un buco faccio il secret santa di reddit e magari con amici che ha conosciuto su reddit no? no non lo so magari è una roba più grossa proprio a caso completamente io mi sa che mi sono distrutto da solo una 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 gu ma come per pollo comunque fatela fatela e comunque mi servirebbe il vostro aiuto perché non so più cosa metterci nella lista desideri qua entra c'è gente qua ma è occio hanno sfondato anche qualcos'altro attento che entrano da qua dietro è morto scemo imbecille pezzo di merda niente non c'entrava un cazzo il proposito di roma ragazzi mi sembrava chiaro no? oh mio dio che paura tremenda ragazzi questo era un jumpscare e certo mi sono spaventato non mi sono mai spaventato neanche in fasmofobia qui si però arriva no qua dentro a sinistra moro nella stanza sinistra lì e lo so lo so oh mio dio vedi che c'è uno anche laggiù statene dentro statene dentro e guardala da qua che ho messo anche qualche gu forse la prende ti dico dove uno l'ha presa ha preso una gu forse era quello lì che lo sento è qua l'ultimo nemico rimasto uno è dentro la stanza dove avevi visto prima moro dal buco lo sento lì dentro sento che si muove pasticcia si tocca non so quanti ne sono rimasti solo lui c'è allora è lì è lì che si si sta ramanando ma che fa questo è stupidino lui eh comunque era un ox ragazzi perché come ha fatto a non fare rumore minimamente non è possibile stava andando con alto che sta facendo qua sempre lì che pasticcia e noi aspettiamo non lo sento più adesso ho sentito sembra lontano ha rotto i giubbottini ah è entrato dall'altra parte che non ho telecamere lì però anche perché ne ho due è tornato a pasticciarsi eccolo ragazzi è qui sta andando nella stanza moro nella stanza dove mi ha ucciso quella lì tieni la porta quella porta sicura tieni la porta quella lì esatto non mi ricordo di aver messo gula dietro tra l'altro oh my god ma chi ha ucciso come ha fatto a morire ha abbandonato la partita ha preso lo stordimento di Ela come ha fatto stordito scusami difensori neutrali vabbè non serve un cazzo lo stordimento però micchia che sapeva già che ero lì però che miseria è che gli sei entrato veramente nel mirino e ti ha dovuto solo cliccare si era Noc comunque Nox Noc come si chiama non mi ricordo mai tu hai fatto le giovanile a Casal Pusterlengo Marco no fino a un mese fa c'era scritto Gerardiana ragazzi nel suo wikipedia poi dopo è andato a Casal Pusterlengo lui c'era scritto Gerardiana Monza adesso magari non so se l'hanno tolto ok wikipedia dovrebbe esserci iscritto te l'avevamo guardato in live ieri ho messo il sale maldon che credo sia la cosa più truffaldina che esiste da tiktok però io l'ho assaggiato una volta mi era piaciuto cioè un sale grosso vabbè sale grosso c'è il sale non è che cambia no credo abbia delle proprietà diverse il sale è sale Marco credo sia si usi perché è un è fatto a fiocchi sì ti dà una croccantezza cioè è semplicemente per un fattore proprio di ma no si scioglie no no è proprio si usa perché ti crea del non di proprietà di consistenza volevo dire ecco no proprietà ma no si scioglie il sale ma non si scioglie subito di solito si mette quando hai finito lo metti e mangi direttamente il sale rosa è rosa perché c'è ma il sale rosa è un altro discorso però non serve non serve un canto il sale rosa c'è un ferro nel il sale rosa c'è un altro discorso il sale maldon si mette proprio per la consistenza ma che serve perché è croccante si usa perché è croccante ma anche il sale grosso è croccante ma quello penso sia fatto in un modo cioè è proprio una forma che è più piacevole nel l'avevo visto da uno chef che ne parlava si usa perché è croccante la forma rende più tutto quanto quello che non è ricavato dal mare fa meno male perché ha meno agenti inquinanti no quello non lo so io sapevo che era usato perché comunque rende tutto molto più croccante però ci ho messo quello il maldon classico e il maldon affumicato comunque ci ho messo il maldon perché su tiktok va un sacco poi cos'è che ci ho messo non mi ricordo perché non so appunto non so che cacchio metterci sotto i 15 no sotto i 18 euro diciamo cosa avete voi cosa cosa mettereste nella vostra lista desideri interessante sotto i 18 euro ho messo anche 6 lattine di coca cola a 2 euro e 40 ah ma sono giù se volete regalarmele grazie ma io ho messo roba al neon perché voglio migliorare la mia postazione quanto possibile sono incivolato se non ha lo spazio ora è caduto ma dove sono scusami un cavo sbg ma però che è dall'entrata principale mi ha fatto subito headshot è uscito ho fatto subito headshot ricarico da qua caffè america ma c'ho la macchinetta io io entro da sotto poi non bevo così tanto caffè carne secca ce l'ho un po' di carne secca già nella lista paura che mi colpisce in te papo ho visto smoke sopra era apparso smoke sto facendo il giro bottiglia di birra giapponese si ma è un è uno spreco i whisky costano di troppo è morto è perché è a sinistra vado a mangiare no no in generale un operatore alleato rimasto allora vuoi morire anche tu Marco ormai oh mio dio Marco questo col pompa da 8 kg come al solito vigil c'ha questo pompa che è un cecchino l'ho provata e mi fa schifo la salsa barbecue è buona la salsa barbecue la Jack Daniels è acida perché è col whisky non mi garba troppo sono gusti casuale no non mi va Jack casuale no non mi va casuale no non mi va lui casuale ragazzi cartonati non ne metto più perché ne ho già due ma cartonati sono 50 euro a parte che si ma poi già devo rifarmi la stanza perché non ci sto più perché ci sono loro infatti Sheldon l'ho dovuto metterla dietro una tazza qualche tazza potrei guardare di mettercela 7 di marmellate per carne e formaggi io di tazze ho flash superman quella del pinguino e un'altra per i cereali che è molto bene quella di pubg quella di flash quella di eh ma c'ho anche quella della no quella da marvel mi si era rotta mi sa troppo mi si era scheggiata perché io quella di dei laboratori starlabs che penso l'attac nel manico perché l'avevo messo al microonde per scaldare l'acqua la tiro fuori ma ho tirato fuori solo il manico robbie grazie mille grazie mille per le ore 50 ciao splendori vi ho potuto seguire pochissimo in questi ultimi mesi ma vi penso sempre grazie ma non è vero ci sei così sempre magari fai solo un saltino però sei molto presente esatto ci supporta ma non se mi stanno presentando come esperto di whisky mi disse che il check dennels uno scart di whisky non credo è solo un whisky molto poco pregiato mi si ve li sto aspettando è un whisky molto industriale ma uno è fuori come fanno ad essere gli scarti del whisky più che altro così intanto rompiamo sta roba ma no di nuovo aperto si black hole sun non seguitemi ancora vigil è stato spuzzato fatto con questo strunz eh mi fa comando non credo non credo ci sia qui se c'è c'è più avanti partito è là il whisky di seconda mano quello dei sommelier che assaporano poi lo sputano quello tutto sputato lo raccolgo non ci fanno jack daniels che schifo no vabbè ragazzi ma come ha fatto ma di cosa stiamo parlando allora qui spara spara tutto spara no ma ci sta che non l'ho ucciso io ma non ci sta che ma giottato in quel modo è morto è ancora là non ci ho fatto niente è morto questo c'ha 7 hp penso io siamo la palla al piede del team per adesso dove non c'è n'insciu qua eh l'ho visto ma no ragazzi non è possibile non è possibile ma si ma non ha idea di come ok che aveva 7 hp ma gli ha sparato tre quarti d'ora prima da dietro dai non è possibile sta roba spara da chi ha sfondato le gamme hai una granata ancora vedi tu come è giusto una granata alleluia ma è sopravvissuto a uno tsunami anche sì sì per carità aveva smirato però l'ha presa comunque da dietro in anticipo sparando e quello qua si è girato lo sopravvissuto comunque tornando ai regali che fareste che mettereste nella vostra lista di desideri di ezzar è mutato ragazzi 15 euro di ezzar sì fino a mezzogiorno è mutato perché c'ha lavori sopra casa sua e fa casino una felpa una felpa una felpa bianca senza niente io ne ho 15 euro trovi c'è una felpa vergine comunque quel personaggio lì diventa silenziosa non diventa invisibile diventa invisibile alla telecamera sì tu invece in teoria non la senti di con teoria perché dipende anche se uno muove come un paracarro lo senti lo stesso oh no che paura che paura non vuoi? non vuoi? oh no oh no non reinforced ma non ho capito ma che stai facendo? a chi non reinforced madonna santa mi guardava ho detto la metto? la metto non vuole che la metto poi mi riguarda non reinforced ma chi lo stai dicendo? indica a me è il migliore di quelli natalizi e ce li ho già il nemico ha individuato il contenitore di biorischio il nemico ha individuato il contenitore di biorischio questo qua ma che è successo? ti sono sparati uno era per terra lo push eccolo aspetta il drone nemico è quasi in posizione per la scazione a me mi hanno sfondato perché ce n'era anche uno dietro la macchina potta resarle mi hanno tirato su quello di prima immagino ha detto not reinforced era lì porca misera franz grazie mille grazie mille franz auguri per la cosa che paura pensavo fosse una roba del gioco dico ma che è occhio che arriverà liezza non so se ti conviene lasciarlo entrare poi lo prendi di silenzio eccolo lì occhio che ha tre di piastre lui di armature eccolo sulle scale tira la granata liezza nei due no arriva vuol dire anche l'altra di là eh black hole sun won't you come come eh vabbè ma prima star fermo questo tanto deve entrare quindi una di qua e una di là conviene star fermo tanto deve entrare lui voglio stiracchiarvi ragazzi no angola sta entrando da dietro di te missione fallita difensori neutralizzati in parte che la metteranno mai a posto sta cazzata dopo che si vede tutto il sotto dalla mappa a caso appena ti sei girato guarda torna tutto il tempo di che gioco era non sono i sound garden ragazzi black hole sun non so se era un gioco probabilmente in qualche vecchissima non è neanche ma oddio black hole sun non è provocazione alle grotte no infatti magari si voglio non so l'ho vista su qualche pubblicità può essere allora sì è casuale parere presto per addobbare per natale io non lo faccio mai tanto quindi magari l'avranno messo in qualche tony hawk non so e marco lo sapete che è un rovino natale ma io in generale non per quello vorrei mettere i neon così ho tutto addobbato per tutte le feste lo metto i neon così sto bene senti come sminuisce le festegità tu vuole rovinare il natale qui il grinch ma non è vero non è vero il privarmi della mia felicità marco no anzi te ne auguro un sacco e fa lo so e allora ammazzo ho preso un pitone ce n'è un altro che è scappato che fa un pitone in mano fai come l'ortolano qua mettiamo un tappetino elastico così se vogliono entrare possono fare un saltino tutti abbiamo bisogno dell'atmosfera natalizia quest'anno bella atmosfera yeah 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 prego non mi cedere comunque io ho scoperto il mio tiktok preferito ed è bravissimo è è nicola jiang ed è questo ragazzo cinese che ha chiaramente vissuto in italia penso credo sia romagnolo o dalla cia però non lo so che però è in cina e fa vedere un sacco di cose in cina e in più è anche un mezzo imbecino cioè guarda dove sono morto di fronte a delle uscite che mi fa morire ed è bravissimo comunque è bravissimo in realtà non è che fa fa dei praticamente micro vlog perché tiktok video durano cazzo uno si sta rampicando dietro di te dietro di te dal finestra si sta rampicando proprio dietro di te la prima finestra era se n'è andato è qui guardalo te l'ha spottato moro in teoria potevi stordi non lo so tanto non serviva a niente sì potevo stordi ma non serviva a un gazzo era glaz comunque è lassù ok io su tiktok seguo quel ragazzo che vi ho detto l'altra volta cioè seguono non ho l'account però se mi capita vado a guardare raffaele raffaele nistoro sì quello lì ottimo esatto è bravo anche lui c'è una nipotina che io voglio se ho una figlia in futuro voglio se mai avrò una figlia voglio che sia come lei che gli rovina i video comunque anche su tiktok se cerchi c'è gente che fa roba a modo eh ma perché tiktok è la classica piattaforma che ma come ma che sta succedendo eh mi hanno messo le cose lì che ho ucciso non c'è più è la classica piattaforma che bravo all'inizio è una merda tutto perché perché ci sono i ragazzini ma poi la maggior cioè io ho visto delle robe che sono veramente immondizie mamma mia però se se trovi quello se ci sono quelli che sanno fare le cose ben bene che non sono uber cringe c'era un altro che parlava di sushi Banshee Sushi può essere che è un ragazzo che sembra Vucinice c'è tipo no c'è tipo anche non mi ricordo l'account è l'account di un ristorante di sushi a Milano tipo Yes no Yes Men Sushi Milano una roba del genere non mi ricordo dove c'è questo signore giapponese non lo so ah ho capito quello leggermente brizzolato il signore leggermente brizzolato asiatico che spiega come fare i sushi i ravioli spiega si esatto come fare i ravioli come fare il sushi vediamo se Mira ha qualcosa da dire quello che fu alle iene ah non lo so non lo so Liezz Liezzer può essere sai sai che forse è lui si può essere lui ragazzi a proposito dell'idroscalo ecco io vi consiglio proprio perchè li sto vedendo in questi giorni il video di Dread quando è rimasto chiuso all'idroscalo io vi consiglio quel video c'è lui che racconta di quando è rimasto chiuso all'idroscalo io non stavo respirando non stavo respirando non so se voglio io lo metto qua gli faccio lo scherzo se alleni bene l'algoritmo si poi più o meno in realtà me ne capitano allora non mi capitano quelli che si passano la mano tra i capelli e fanno l'occhiolino roba così non me ne capitano fortunatamente poi seguo anche Viola che è una toscana che fa video sulla cucina tenete d'occhio la porta anche lei molto simpatica non siamo che fa ridere cucinando cosa a caso non mi è mai capitato io lo so che se adesso prova a mettere una trappola arrivano tutti me ne ho paura dunque Nicola Giang è il mio prefe sì ma è normale ma in ogni cosa non può essere tutto merda no il discorso è sempre quello non può essere tutto merda e come cioè youtube se lo guardi in generale penso sia molto peggio di tiktok no non è vero perché semplicemente perché è più impegnativo da da fare tiktok essendo più immediato controllato youtube un pelo no non è non è più controllato tiktok ci sono delle robe allucinanti è semplicemente è semplicemente che tiktok è veramente tanto immediato cioè chiunque ci mette cinque minuti per fare un tiktok volendo infatti ti guardi le cringe compilation di tiktok su youtube e ti cascano i capelli amici speriamo tiktok a copyright non esiste anzi attento l'iezar che è lì ok ha preso la mia trappola aspetta fatto per usare le musiche tiktok c'è cascato ho messo una bella trappola sono soddisfatto ragazzo era questo di sopra tiktok esatto è un'evoluzione delle stories di instagram qua chiudo sono delle delle storie più però più complicata ha un suo editor un pochino più complicato oppure ci montano direttamente proprio i video è vera jazzer oh sulle scale diciamo che l'altro giorno a gatto gliel'ho paragonato perché il gatto usa quando fa la cacca usa 9gag no e social d'accesso esatto guarda scorre 9gag e si fa dei mail mentre fa la cacca grazie grazie dottor Lele grazie mille 40 come i ladroni di alibaba vabbè grazie tranquillo ok sì secondo me è il nuovo 9gag cioè ti metti nel cesso e inizia a scorrere i tiktok poi magari c'è qualcuno che ti fa caccare e ti stimola anche di più no rost annel non so cosa vuol dire eh mi ha scritto una roba in tedesco penso non so way alessandro chi è alessandro way perché magari lino baratto barattolino grazie mille sette mesi perché magari mi sono anche aspetta Rector vuoi giocare? mi ha detto mezzogiorno magari si è riuscito magari si è sbloccato prima non so non giocare mezzogiorno poi ci sono anche i little dick arrivo adesso aspetta gli azzar che arriva i little dick little big e chi sono? come chi sono i little big Marco? non so un gruppo musicale è quello di my dick is big ah ok scusami non so perché non mi diceva niente la mia testa my dick is big my dick is very big my dick is big my dick is very big adesso seguo 5 persone tra l'altro a me mi ha fatto registrare per forza adesso tiktok penso a uno che non sa di cosa stiamo parlando che sente my dick is big my dick is very big si impara così vabbè ma quando è che è stato c'è una delle mie live vecchie che era una clip che adesso ormai è andata persa in cui uno mi dice stavamo parlando di libri e uno mi fa Mark ma hai letto ti piace Tolkien e io ho detto chi è Tolkien perché la mia mente in quel momento era andata in un'altra parte cioè io ce li ho i libri di Tolkien li ho letti so chi è Tolkien perfettamente la mia testa ha detto ma chi è questo qua sono scemo sono scemo seguo anche castomenia seguo anche Marco il giallino che è un chimico questo è inventato Mono palesemente l'ha inventato Midia 23 mesi siete dolcissimi grazie belli è un chimico che fa degli esperimentini ti fa vedere delle varie reazioni chimiche e robe così è molto molto bello lui è molto brutto ma povero sono gusti gusti ma non piace io appunto non avendo la carta non è che follow qualcuno quando mi capita lo li cerco credo che sia il follower credo che sia la cosa più inutile di TikTok perché te poi sopra nella home hai i vari cose che ti consiglia e sopra hai anche per te che sono quelli che ti consiglia e poi hai seguiti che sono solo quelli seguiti però non è che è fatto uguale quindi te devi scorrere uguale a come TikTok base quindi non capisci un cazzo anche perché non c'è un ordine cronologico degli ultimi usciti ti fa vedere gli ultimi usciti non ho capito bene come funziona buongiorno buonasera come state? tutto bene? ho visto un certo di merda la parte seguita di TikTok è uscito grazie mille per i tuoi nove mesi è nato è nato il bimbo è certo è lui non dire bimbo che non si può scrivere in chat Marco per favore davvero è un presidio non puoi scrivere bimbo guido cioè come si fa a vivere in Italia quindi dice così pistole macchine in Italia pimp si può scrivere eh? pimp? no nemmeno quello puoi scrivere pimp my anus ho già finito ho quasi finito le sfide di scrivere ma te lo pesca l'automoda te lo devo accettare sempre mai di chi speak mai di hai ragione ma poi devo devo dire ma ragazzi scusatelo se non ho scelto dedu no certo che lo conosco io non lo conosco chi è? è uno che entra nelle chat di COD e suona semplicemente è uno stronzo quindi rompi i coglioni di merda no la gente è ripattissima ma vaffanculo ma dimmi devi spagliare i coglioni io devo sparare le persone per arrivare il suono ma ti spacco la faccia vai a suonare alla scala di Milano vai a suonare che cazzo vengono rompere le palleggiate a entrarci veramente vabbè adesso è quello il fad e ho capito gli do un occhio lo conosco cioè lo vado a conoscere dopo gli do un occhio anche su Meagle io voglio masturbarmi basta su Meagle non è che voglio quello che sono su Meagle dai e io non capisco questa violenza di prima mattina ma non lo so ma è moro ragazzi perdoniamolo provate il contenitore di bioricchio scusate usiamo ciò che è fatto per ciò che è stato fatto per ciò che io devo scusare con la mia sorriso che ti porgo una rosa quella tatua questa ma no ma per favore come no e dove tutta sulla schiena di invertitare io mi devo ancora scrivere sappi due imbecille da qualche fa dalla coscia fino verso la gamba ciao Giallo vuoi venire in senso motorio a giocare dai Gianluca si se c'ha il gioco se no te lo scarichi come hai fatto con tutti gli altri quando ti abbiamo chiesto ce l'avevo un mese fa cos'è fa intervittenza no ma lui li disinstalla ragazzi sono c'è Valkyrie sono su si sono su a me manca Gianluca viene a giocare è preso un hoc ma veramente simon ma che cazzo è un miglior lo apro per provarci con le fisse non è che è stato è speroso sono morto io e quindi abbiamo cominciato alla grandissima credo fosse a destra ah ma è lì ma questo è un problemissimo io non lo vedo questo mirio qua dobbiamo andare da su allora io faccio così è già stronts si ma tanto stronts stronts ieri con Vale abbiamo giocato a fifa in co-op è bello su foot è più difficile ovviamente molto più difficile però ci hanno divertito poi si fanno almeno facciamo anche scaliamo un po' le division insieme che da solo magari di nuovo la camera ah ma c'è una black eye qua giro cosa ha detto Gianluca devo tornare al lavoro oggi oh no c'è uno lì non capisco se questa è ancora qua oh mio dio era sopra ti guardava come un guardone come su Omegle che schifo mi guardano ti sparano anche da lì da tutte le parti oh mio dio questo spara lì bravo oh mio dio un altro spara salghi vabbè ma questa salghi ma questa salghi la pippa spara scusatemi blanzo secondo me non conviene più se vuoi un cecchino ti conviene sempre non l'ha ucciso ancora sta sparando dei cuccioli di coniglio che carini sono bellissimi non sparateli per favore è ricarica io lo so che si troverà che gli serve il terzo colpo e non ce l'ha perché ok per me guarda anche il primo non gli servirà con glanzo perché silenziatore già non fa schifo io lo prendevo col silenziatore ai tempi perché conveniva adesso non conviene più il glanzo era forte esatto prima era forte quindi dicevi te lo prendi silenziato tanto lo uccidi lo stesso adesso non serve più a niente in generale bro ma se gli sparassi dei pistacchi io sono convinto che se ti sparano un pistacchio col guscio e tutto ti perfora ti sparano un pistacchio a 40 km orari ma perché non riusciresti a mandarlo nella direzione in cui vuoi secondo me se non hai un mezzo opposto se ti colpisce va malissimo una telecamera ma poi c'è un proiettile che sia molta di più ma non ho niente in realtà ma infatti il proiettile ha il suo peso specifico proprio perché deve andare in quella direzione lì poi c'è la balistica è ok però un pistacchio penso ti va proprio dove gli parà lui perché non ha il peso giusto ma credo che il pistacchio non gira nella canna semplicemente no dico anche facendogli una pistola apposta non so quanto posso andare dritto dove vuoi dirgli tu un pistacchio una volta che hai fatto una pistola per un pistacchio anche perché tipo la nerf tipo la nerf è una pistola apposta però comunque sia il colpo una certa prende una direzione ma perché è leggero esatto ma questo in segui in segui ci rimangono i bravi ma questo manco fermo li prende però però questi stanno uscendo giustamente è entrato dentro però deve andare su corri ragazzo laggiù col preppets corri col penne nel no quella mamma mia trappola di frost gliel'ho vista nei piedi ragazzi guarda che perdono perché sono usciti sono cretini così tanto no ce n'è un altro mi sa se non punta la porta muore però oh santi dio bravissimo ti prego fanno così che stronzi avrebbe comunque ucciso uscite 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 cretini corri ragazzo laggiù oh mia verrà un pimpante questo qui è per noi non vedi io non ci sono uno e mi è andata bene poi ma perché di lì vabbè ragazzi stiamo vedendo la chat comunque adesso ti faccio un culo così chiararla esatto e se non vedi le mie dita è perché non abbiamo la webcam hai capito beh ti prendo io non lo so prendo un lion dai per riguardo come si dice amici oggi pomeriggio mi metterò a giocare ad assassin's screen quando intendi di fare delle cose alle persone forse inizio syndicate intenzione non lo so vediamo l'intenzione quando stai facendo fare qualcosa a qualcuno è questa istigazione all'anarchia non si fa l'istigazione all'anarchia quindi state calvissimi no ma ti ripeto basta che tambo un secondo e banno ne sentono qua guarda che faccio il fuoco istigazione all'anarchia è che l'era? era tutta nuda da sola qui però sono su Marco probabilmente va bene è uscito da dove erano prima e mi hanno mutato mi hanno mutato dove erano prima attenti allo spawn kill di nuovo lì dalle finestrelle la distraggo io la distraggo è dal garage è un mondo di insegnamento hai fatto spercare qualche colpo 5 secondi io l'ho disinstallato se scritto perchè si è bugata quella che penso sia la missione finale hai già la missione finale hai già la missione finale ragazzi ma non dura 70.000 ore questo Gianluca è un grande Gianluca si abbia arrasciato tutto solo la storia perchè oggi doveva tornare a lavorare Gianluca ci posso credere tranquillamente io credo di essere ancora la missione iniziale non so io ho detto sto finendo la terza alleanza la terza alleanza cosa sarà Gianluca neanche metà gioco metà gioco avere il laser coglione vediamo se ci c'è fuori qualcuno lì con la testolina gli faccio pom io sono a 40 ore di gioco e sono alla terza alleanza Gianluca secondo te a che punto siamo Gianluca? la terza alleanza sarà poco meno di metà gioco secondo me a metà gioco siamo dai santa miseria beh moe sto rischiando ragazzi non si fanno queste cose non le fate è scomparso? è scomparso se io volessi fare una cosa del genere per togliere le varie ho sbagliato ma non volevo vabbè aspetta 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 oh my god ho l'elmetto ma non mi è salvito devo passare più ore su assingrede che su monster hunter eeeh si a me l'unica roba di monster hunter che sta facendo veramente cacare del gioco e sono le i manufatti che non me ne fregamo cioè stasicchiette non di monster hunter? si i manufatti che non basta basta questi collezionabili ho provato ragazzi è per terra è per terra uno di fronte a dove sono entrato la fine tre io ho visto spostare delle cose io sto facendo tutto quello che mi va se mi va di fare un tesoro faccio un tesoro se mi va di fare un'attività faccio un'attività ecco non sto facendo quelle cose tanto quelle con la signorina extra gioco i trick incredibili delle robe che devi spostare quelle non le sto facendo che non mi va le anomalie quelle non mi va tanto devo dire preferisco i tesori perché mi diverto a cercarli le parti fuori dal cioè le parti nel dei greci dell'animus di Assassin's Creed mi fanno veramente cacare quelle che ho visto l'altra sera con morti Mark Mayakuza non lo gioco sicuramente durante Assassin's Creed ragazzi penso lo giocherò post Morales post Malone farò Assassin's Creed Miles Morales che tanto appunto Miles Morales è la roba che prende meno tempo e poi faccio Yakuza anche perché giocare due giochi assieme da 40 ore non mi sembra una buona idea ragazzi con tasti diversi e gameplay completamente diversi però vorrei provare grazie al PSG che ha molto a favore di ciò che ci ha consigliato Monster Hunter World è il Monster Hunter migliore per chi non ha mai giocato Monster Hunter io ho finito tutto quello per la PSP ragazzi che era terribile come comando poi dalla PSP ho preso World mi sono innamorato completamente quindi ve lo consiglio non ci siete mai avvicinati però ragazzi Yakuza sarà sempre la serie che avrei voluto fare tutta il live ma non si può fare rimarrà sempre con questa sono molto triste per questa nomea purtroppo fa noto nel PSG nel PSG si sarà Monster Hunter con Iceborne no senza Iceborne no normale senza Iceborne e se uno poi vuole Iceborne te lo compra basta prendere Iceborne ma basta prendere Iceborne o tu devi prendere anche il gioco? no prendi Iceborne tranquillamente sulla play c'hai la sezione proprio DLC ti cerchi Iceborne mi pare di Sicrone mi pare forse quello il titolo tra l'altro in teoria ditemi se sbaglio ma uno può avere il PS Plus Collection grazie grazie RIDIUM può avere il PS Plus Collection anche su PlayStation 4 basta che lo attiva da PlayStation 4 anzi occhio qui che probabilmente entreranno beh si stia sull'account immagino no? si si è andrà avviato era dove prima dire Luca eh io volevo aspettare Gennaio per prendere la 5 quindi boh io ragazzi spero che se arrivi un amico che c'ha c'ha la PlayStation 5 fate un attimo gare così che attiva il PS Plus Collection male eee e poi ce l'avete anche sulla 4 in teoria ragazzi come non è morto qualcuno mi dia una spiegazione no perché c'è successo? Marco dietro di te c'è montagna qui aspetta va team aha 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 esatto esatto scemo pagliaccio non è buono non ho sfumato sopra lutami con la tromba e con l'imbutami sono colpito non l'ho ucciso ma ne arriverà un altro immagino mi arriva anche paura che mi ha messo ma che ho ma da dietro sono trittati tutti da dietro allora era vero che arrivava qualche d'uno c'è Blackbird nella tana del bianconiglio eh come andare lì vado allora buona lavora ma avrei che è morto no avevo poca vita eh nè non ci arrivo io in tempo avevo pochissima vita vorrei come fossi tantani usain bolti attento a Blackbird se gli vai approccio diretto è capace che gli butti tutti sul no dai che paura che palle volevo rispondere a una domanda non me la ricordo più chiedo scusa cosa ah ecco non è una domanda ci pensi Moro se ci arriva giusta il 19 era il mio sì era il mio ragazzi scusate eh facciamo sarebbe bellissimo ma secondo me no se la prendiamo tutti il 19 è questo giochi il 19 ma io infatti ieri dicevo ragazzi manca pochissimo ma tanto noi dobbiamo aspettare quindi chi prende quindi Moro è lista che ci metti niente ragazzi non ci metto un cazzo consigliatemi consigliatemi cosa da metterci sotto i 15 euro per favore anch'io ho dovuto fare un censimento perché avevo tutta roba del cazzo ho dovuto togliere e rimettere un po' di cose l'avete presa su Amazon? sì speriamo che ce la mandino perché lì c'è scritto loro vogliono sono voluti rimanere larghi e c'è scritto 23-24 mi ricordo 23 e spero che arrivi prima in realtà che fosse solo una scritta per essere tranquilli capitano spesso queste cose su Amazon ecco ti scrivono una data più in là perché non sono sicuri e poi ti arriva comunque il giorno giusto o il giorno dopo il giorno prima addirittura figurati maveram dispositivo piazzato Iceborne non ha voglia se vale la pena giocarlo dov'è giocarlo chiacchia eeeh aggiunge quasi tutto in un altro gioco esatto tipo 100 ore di giochi in più ma anche anche meccaniche tutto eh aggiunge veramente la postilla tutto anzi diciamo così metto qua dove sto andando proprio qui ah ma sono già c'è montagna di nuovo mi sa io sto giro me la campero un pelo dov'è questo stronzo qualcuno è stato individuato eh quelli sono all'ingresso stai attento a non uscire ma non mi servono no ragazzi no no allora qua non ci sto qualcuno mi può tirar su another mind please eeeh another mind please another mind vabbè c'è la mia trappo posteri ha tirato una roba io ragazzi comunque non ci credo qualcuno faccia una clip di quello che è successo perché non me la date a bere che non è morto o non l'ho colpito ok ho preso la mia spina ora occhio che siete vabbè niente pensateci qua quando esce il nuovo operatore tra poco mi sa manca poco è già uscito adesso splinter arcello pip pip pipi pipi un po Why did that' bad girl? ho visto trick y'attara ma la prima volta l'ho dato sullo scudo un po' batlettolò per trick ettare omnio fuck 没 addition barrel volevo pigliare io con la level l'ex ha da mettere in macchina eh? ah il no non mi c'è del carplay ho il telefono io ragazzi voglio avere una una postazione da streamer professionale non posso farlo qualcuno mi compra una casa nuova esatto qualcuno vuole investire no oppure mi buttate giù l'armadio ne prendo un altro 200 goleador a 15 euro ragazzi poi rimangono lì per sempre penso di avere ancora le goleador di 3 o 4 games esatto no io l'ho finita io avevo solo quella liquirizia e poi l'ho finita nel corso del tempo e non l'ho mai guarda i portafogli non costano 15 euro ho preso il pacchettino grazie Congo 45 euro se l'avevi fatto per bene grazie Tongao ha una nuova stanza nella wishlist Mark tanto non me la comprate quindi non la metto si può mettere le ginghe ma coperta è che ce n'ho già tante io di coperta ma che schifo è un'ottima idea devi avercene di vasta gamma a me puoi avercene solo una devo essere belle tante ce ne ho un sacco me l'hanno regalate loro continuo a fare le sfide accumulo punti ma non sto comprando l'odorante ce n'è anche un altro non mi sentite l'odore voi quindi non serve l'odorante la coperta con le maniche ma non penso costi poco però io l'ho visto che ne parlavo su discord due settimane tre fa ci sono le felpe coperta sono bellissime ma costano 40 euro tacci l'ora dai c'è una felpa costa 30 euro comunque andiamo con Greg Kali la masturbo aperta no ragazzi comunque ho messo un po' di neon nella wishlist perché ho detto così se mi fanno un regalo serve per migliorare la postazione il problema è che se me li date non so dove metterli comunque perché devo rifarla in orange zone non posso fare sesso ah io da mo che sono senza il fallo bella skin di Ash ah vabbè Tomb Raider Lara Croft per forza Lara Croft Lara Croft farei sottile anche non ho ancora pensato come organizzare la stanza è mica facile devo togliere io devo togliere letto e armadio per fare spazio ho scoperto che divento mamma a giugno prossimo ma veramente ma che notizia bellissima saranno complimenti la chiami se è femmina allora la chiami Liezar e se è maschio lo chiami Liezar dai se è capo di un certo sono dietro sono dietro che figlio comunque oh my god ragazzi 5 anni fa non pensavo di trovare genitori su questo canale invece invece la prossima siamo noi no per favore grazie mille ora che mi hai messo le prego mi hai messo sincera positività felicità molto fico 10 secondi all'inserimento se è femmina chiama la madia ahahah a me dei nomi che piacciono sono la femmina sono aurora mia mamma è fissata con aurora ma non glielo ho fatto mettere a mia sorella non glielo ho fatto mettere perché non mi piaceva ma perché volevo usarla non glielo ho fatto mettere perché non mi piaceva come nome da utilizzare no no è bellissimo aurora però volevo me l'ho fissato con Sara perché era anche corto damaschi Pier Giorgio o Ubaldo è passato qualche d'uno l'ho visto questo se ne sta andando mi dà fastidio vabbè allora rimani tu me ne vado io vediamo se riesco a fare il mio solito trick l'eserbalkeri è su per caso Vec faccio sapere se ti piace vedere mi pare allora no non credo dimmi se ti piace tricchettare per favore che è là da quelle parti ma c'è molti mi ha rilevato pop 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 questa era già qui voglio sapere da dove ho uscita io ma non si deve chiamare aurora morelli però se dovrebbe chiamare aurora livorno semmai ah ma Vec tu eri sul telefono livorno è il cognome eh niente ragazzi mio figlio si chiamerà Amilcare se è femmina peggio per lei che torto devastante non mi piace neanche un po' Amilcare come noi chiamate i figli giusti per favore poi vengono su e si accoltellano perchè li avete chiamati diastronzi spero di no spero che non succeda questa cosa qui come dice si sperma ma perchè dovrebbe non lo so io ti dico tra i nomi che mi piacciono di più sia maschile che femminile c'è Francesca e Francesco mi sono sempre piaciuto di un sacco Gabriele è un bel nome ho sempre detto se avrò un figlio maschio io lo chiamo Francesco perchè mi piace proprio come nome per un maschio anche Alessandro che sono Totti e Del Piero casolmente non mi dispiace per niente come come nome dovete trovare il contenitore di biorischio mi piaceva anche Cristian mio papà mi ha detto no vabbè perchè? non gli piace a lui Cristian vabbè ci sta ci sta ma con l'acca o senza? nemmeno a me troppo piace no boh è indifferente è un po' come il dilemma jessica j o g non si sa mai come e mia mamma si chiama Katia con la C ecco Katia lo preferisco con la K forse esatto con la K con la C con la C sembra quasi traduzione anni quaranta ma può essere avrò sbagliato all'anagrafe è improbabile mio papà invece è uno dei pochi che è fino all'anagrafe è uno dei pochi che è fino all'anagrafe mio papà è uno dei pochissimi ne parlavo con Vale che è Pino all'anagrafe perchè uno dice ah Giuseppe no è Pino è Pino all'anagrafe è Pino all'anagrafe è lunghissimo come nome si è un nome molto lungo no in realtà c'è una storia incredibile con mio papà perchè lui dice che si ricorda che in realtà era Giuseppe cioè lui fino a una certa delle elementari si firmava Giuseppe poi è successo qualcosa non si sa solo Pino 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 che poi era successo una roba e all'anagrafe l'avevano fatto diventare Pino infatti lui si firma Pino andò Michael così mi da veramente fastidio mister Q non ce la faccio il cugino di mio amico che si chiama Fabrizio con due B all'anagrafe ragazzi ma perchè Fabrizio? no perchè sono stupidi per me esce da lì adesso non è vero adesso è vero prevision bro mi tiro dei passi voglio condividere questa cosa come sapete che siete fra i pochi che lo sanno ma tranquilla terremo questo segreto allora non lo diremmo a nessuno ma di che cosa? grazie e ha detto Sara mi segue da tanto e voleva condividere questa cosa con noi siamo tra i pochissimi che che lo sanno sono molto contento per te uno dei miei fratelli ha un secondo nome ovvero Raimondo l'ho scoperto quando si è scusato ma non è brutto Raimondo è carino cioè fa ridere quanti fratelli ha? mio padre si chiama Ignazio ma per qualche motivo i parenti lo chiamano Giorgio ma io ancora non ho capito perchè Giù Giuseppe Pippo io l'avevo già parlato di questa cosa è Filippo e Pippo esatto Filippo e Pippo in Sicilia o comunque al sud Filippo non c'entra niente è Pippo e Giuseppe no no da me Filippo e Pippo anche da me però giù si usa Giuseppe e Pippo ma giù è giù e questo è uno sciocco che storia Don è come mia nonna che si chiamava Eleonora però chiamavano tutti Maria ho capito ma non è che possono cambiare come mi pare è infatti io questa cosa che racconto spesso è che io da piccolo pensavo che tutte le nonne si chiamassero Maria perchè se ora si chiamano con il nome di questa chiamano Maria mia nonna di qui che si chiama è Maria Teresa invece la mia nonna di là che era Eleonora invece non si chiama Maria comunque perché si chiama Maria Comune hanno deciso loro eh sì Maria Callas io pensavo se chiamassero tutte Maria le nonne che non si chiamava Giovanni ma tutti che lo chiamavano Mario ma allora chiamiamo tutti come lo andiamo ma che cazzo vuol dire? ma che cazzo vuol dire? cioè io voglio sapere il primo io voglio sapere il primo che ha dato via sta cosa piacere mi chiamo Luigi ti chiamano Fabrizio ma no mi chiamo Luigi è come io a te che ti chiamo Mario ogni tanto no? ma sì ma quello è una stupidaggine ma una persona che seriamente ti fa diventare secondo me va a finire che ti chiamerai Mario qui ci sono alcuni soprannomi che magari vengono da neggoti da cosa protezione quelle sono d'accordo non è che puoi cambiarmi nome perchè decidi tu siamo tutti i Bic di Space Valley che era Bic, Nick devo mettere l'ultima trappola ma non so dove chiaffeggiarvi che è? scusa tutto qua anche se Martino chi è? è un campanaro fra Dic Dabo? Dic 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 Dic? non lo cambiano comunque chiedi il permesso oh mio dio questa è una persona di perda gli ho sparato magari mi fa schifo Mario tu mi chiami Mario mi da fastidio mi fa schifo Giuseppe mi chiami Giuseppe mi da fastidio Dabo devi mangiare vuoi venire a fare due partite su Rainbow? oh porca puttana non passerà mai qualcuno? ragazzi c'è Dick Giuseppe al drago che è praticamente mezza vita ed è... è sopra ragazzi ma facciamo così no Dabo dicevo a Maurizio a chi? a te fammi chiudere qui Dabo ti chiederemo Maurizio dove ci puoi perché si ma chiudiamo ma tanto qua non c'è niente eh c'è un... un... giubbottino non so chi non l'ha preso porca miseria è caduto come un anguilla Marco c'hai Blackbird qua a destra? destra a destra o? è in un angoletto qua nella stanza non so bene dov'è vabbè scone posta in poste salutiamo come è possibile? tutte le... ad esempio ragazzi io non lo so aveva un fucile laser forse no? mio padre si chiama Vincenzo ma da ragazzo per poter scendere e non essere richiamato dai genitori si faceva chiamare Vittorio e scendeva ma... ma... da cosa? scendeva dove? scendeva scendeva in casa giù non potevo uscire di casa si faceva chiamare Vittorio per non farsi riconoscere ah è un pasino piccolo ad agli amici esatto oh Vittorio c'è di un be mio nonno si chiama Felice ma io lo trovo triste pensavo a scrivere ma quello c'è l'aneddoto dietro lo posso capire ma non è che da un giorno all'altro ti cambio nome voi lo chiamo con il telefono testa di cazzi ma non avete detto il mio aneddoto arrivo sior un attimo anche un mio parente lo chiamavano tutti Bepi quando è morto altri conoscenti cercavano la tomba di Giuseppe e cognome X invece si chiamava Francesco e aveva un altro cognome ma tutti lo chiamavano Bepi benissimo guarda quanto è Mastershop però questo e a me per esiste il mio nome piace no? quindi mi darebbe fastidio se uno mi chiama con un altro nome ma in generale ma ora si chiama Lorenzo vabbè chiamiamolo Giuseppe ma no è vero ma a me niente ma a me si è impegnata per dargli questo nome aspettiamo se è così io voglio essere ho detto Federico Tardelli ma perché? è il mio nome se non fossi stato Lorenzo Morelli Federico Tardelli e sto avevamo deciso ma in base a cosa l'hai deciso ma ha deciso in una live no si ma in base a cosa avevamo esatto mi ricordo il metro la storia dietro che è successo quello che ti sta più bene addosso proteggete il contenitore di più rischio a tutti i costi era così quello che mi si ha detto a me volevano mettermi cioè per un attimo ho rischiato di essere Marco Saverio tutto attaccato tipo Maria Grazia io tanto Dio perché stavano scrivendo con le mani di burro quelli dalla naga il problema è che Saverio è un nome che non... ma no ma allora i nomi come Saverio e altri sono nomi che ti danno giù perché devi fare la roba con i parenti esattamente ma io non mi sono mai cioè tra l'altro per un lasciamo perdere la storia poi che c'è dietro nel senso che me l'hanno appioppato ma in realtà non c'ho neanche questo grande rapporto con mio nonno non ho mai avuto rapporto con questo mio nonno però c'ho Saverio io anche come... ma appunto io mi chiamo per mio nonno mio papà era il primo genito del primo genito e quindi il primo genito di suo figlio si doveva chiamare anche come lui e quindi a me hanno messo anche Saverio per continuare questa catena di Sant'Antonio qui devo essere Lorenzo Benedetto Morelli Benedetto non mi piace proprio come nonno non neanche a me la femmina Benedetta si un sacco mi piace si meglio però comunque preferisco altri nomi mi hanno sparato a un drone vuol dire che ci sta qualcuno qua a me i nomi banali tipo Marco Luca Davide sono banali però mi piacciono Matteo ho molta paura non devo farlo mi si sente Elias è vero Elias una cosa che mi fa molto cacare poi dipende c'è qualche eccezione però dare dei nomi stranieri in Italia che non mi piace proprio poi viene fatto Johnson Morelli no è terrificante smettila sei un mafioso incredibile eh tipo Michael è uno di quelli lì che già ci sta ci può stare sarebbe Michele però ci sta ragazzi non so dove sia zonfiano questo è stato individuato da chi è entrato eh è entrato nel punto uno more oh my god bisogna spararvi assolutamente Marco igio o drone lo tratta nella faccia ragazzi ho sette di vita stordisci stordita qua è morta bravi bravi buongiorno la maledizione di chi si chiama Alessio viene chiamato Alessandro lì perché Ale magari capiscono cioè effettivamente se uno chiami Ale Ale può avere un po' di sbocchi la madre vuole chiamarmi la madre vuole chiamarmi mi piace grazie mille hai scelto un nome a caso in base al giorno in cui Gabriella Sergei Piputkin l'arbitro di FIFA Gabriella è un bel nome comunque ah ci sta io mi chiamo Yuri lavorando a contatto con molti arabi mi sono messo l'anima in pace a sentire il mio nome detto in ogni modo perché dicono Yuri gli arabi? no solo dicono in ogni modo lo diranno in più diversi modi vabbè come fai a pronunciare male Yuri? scusatemi un secondo YAURI no è la URI io avevo uno Yuri in classe che era russo che è nato in Russia ma i suoi genitori l'hanno adottato quando era neonato quindi è sempre stato in Italia però era Yuri no Yuri con la I era era Yuri con la I lui e comunque Yuri oh no c'è il Giza via giusto che è un mouse a me avevo ragione io quindi ragazzi ma quanti sono fatti guardate il mio nick nella tabella la R di Mar guardate quanto è stretta tagliata sì perché è così? ma che cazzo di particolari voglio vedere? eh non lo so me ne sono accorto adesso perché ho visto questa specie di rientranza ho detto ma che è? no Jennifer con la G è terribile vero no Jennifer con la G è no no Jennifer con la G è proprio che l'hanno scritto no dai da ignoranti qui cazzo come cago per terra ho fatto una bella distesa di fecci mi spaccano è stato infangato da Yuri eh? faccia da scimmia ah Yuri faccia da scimmia perché aveva una faccia sembra una scimmia che testa di ciazzo che eravate allora eh che merda scusate lascia perdere va vieni a perdere se riesci tirami su se riesci a correre ma ti trovo fisso di smartellare mezzogiorno al venti eh niente che situazione del cacchio guarda vado nella trappola piuttosto resta solo un operatore d'attacco eh eh ma c'è anche il tracciarca c'è tutto il situazionario mio padre ha due zii uno si chiama Felice e l'altro Natale madonna no Markerman mai spero nella mia vita succeda questa cosa qui per errore neanche Natalino proprio Natale ma cosa succede se hai scato la possibilità di stare sotto la con... niente Goti è una simpatica burla è un gioco è un gioco si scopi praticamente scopi la contessa è molto... buonasera Dabbo buonasera come stai? ma senti che sonno eh sentilo buono zii buono di dentro la sua gola c'è una piccola tromba che amplifica tutto si si esatto potrei essermi svegliato ho un po' la miseria cinque minuti fa probabilmente un po' di più in realtà un pacchettino forse... un amico nato il 25 dicembre si chiama Natale di cognome ma ragazzi ma lo smettiamo di fare questi simpatiche vabbè che lì cosa devi fare vabbè dai andiamo avanti scherzo avanti devi farli puoi farci niente io non ho più le mani su questo gioco l'importante è escaway lo sappiate escaway 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 aspetta che devo riscuotere un sacco di cose io zii ragazzi siete full? si eh si decisamente non è vero basta allora il fatto che io abbia routato in quella live sabato sera è stato per errore si che fatica io ho routato due volte non l'ha sentito nessuno in quella live io ho dato la colpa ma che live? eh abbiamo roba in live da lino linux toccare a gtf e faremo prossimamente appena torna monito di vo... cioè vo... 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 c'è... gli ezzar ho fatto molta fatica a dire questa frase è molto carino gtfk è divertente ma fal d'arturo angiolina meno male che è passata la guerra eh eh meno male meno male no 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 io non sono d'accordo arturo ma falda significa ma dovete tenere l'ostaggio sicuro ma è ostaggio ma c***o ma chi l'ha messo l'ostaggio maledetto voi ma che volgi di essere pluriero in questo mondo ma vaffanculo ma fastidio io c'ho solo bombe infatti con le mappe tutte le guardate non so più dove devo metterli mi si chiudono gli occhi come faccio? no lo so e tirili aperti guarda sono riuscito a mettere la barriera con gli occhi chiusi ragazzi mi dice io non ho una... il drago bianco occhi chiusi il drago bianco occhi chiusi il drago bianco occhi chiusi no no non è più caso sparo di nuovo l'ostaggio però se gli spari almeno ammazzano così terminano le sofferenze per sempre mi dice io ho quasi finito Merlino e mi è venuto in mente perchè ha scritto l'ancillotto d'arco ah... manca l'ultima stagione sabo invece tu hai qualche persona che conosci che si chiama in un modo ma non la chiamano in quel modo? beh... io sono l'esempio non è vero ma tu è un diminutivo di nuovo no da abu mi chiamate voi vabbè ma io mi chiamo Guglielmo e io mi chiamo Guglielmo e mi chiamano Willy i miei genitori da quando sono nato vabbè ma Willy è diminutivo di Guglielmo ci sta ho visto di me che ti chiamano Mario i tuoi esatto non è che ti chiamano Carlo no non mi vengono in niente persone del genere posta ma ci servirebbe una mano qui eh... anche a me ostia Ria oh mio dio Agliezza sei tu che paura minghio no ma Dabo sei cascato l'ho colpita ma mica l'ho uccisa perchè ho smitragliato un po' papà 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 ma non ho preso nessuno non andate non andate che quello lì è in posizione tattica dietro la scheda madre e la scheda video come si chiama la motoslitta eh scheda video non ci provare Marco ho detto che sono intrinse invece qualcuno ha fatto delle porcate qua sappiatelo sono caduto oh mio dio ultimo attaccato e rimasto in vita l'ultimo attaccato e rimasto in vita l'ultimo era fuori me dentro ma scusa i rumori che sentivo ah era qua andato erano falsi erano falsi erano falsi no c'era un cadavere erano ucciso vecchio da mo erano ucciso erano ucciso erano ucciso ma perchè non lo smetti scusa questo poi ha fuzzi fuzzi nostalgio tra l'altro ma si grazie gatto per il ribes ahhh gatto è venuto super saiyan ben arrivato e ben arrivato busnax vero goti della vita si però dirlo mi da fastidio bugnax che bugnax che pronuncia è busnax che ne so ho letto busnax il primo commento vabbè dai scherzzavamo non so che gioco è è busnax è quello è quello è quello di quelli di octodead esatto che trasforma in cibo si chiamava in questo modo non mi ricordo bugnax mi sono scordato completamente della sua esistenza lo volevo anche fare ma mi sono completamente scordato della sua esistenza sembrava molto carino sembrava l'ho visto un pochino prima di partire in live da gatto dovete tenere lo stesso troppo troppo tra l'altro la mia testa tra l'altro la mia testa la voglia nella mia testa ero convinto uscisse insieme al cioè più in la con le nuove console più in la anche io pensavo invece no è gratis con ps plus buonasera infatti ma che puoi farla grazie ma il drone bastardo la nuova console in caso non mi ricordo se c'è anche su ps4 ma che rischio si no probabilmente anche per ps4 ma tanto non ho il plus nemmeno adesso quindi in caso aspetto alla playstation è gratis sicuro su ps5 non so se ha un plus faremo più avanti ah è solo ps5 pensavo che uscisse anche su ps4 ma qua non l'abbiamo rinforzato ma siamo forse stronzi eh infatti non ho capito ho provato prima ma è su ps4 ma a pagamento quindi non lo regalo la scena mi spavano vuol dire una cosa giusta e beh nel porca vacca oh mio dio stanno cecchendo lo chaggio vabbè cretini stanno cecchendo lo stagio stanno efficienti pirla pirla ma perchè hanno più di lo stagio questi deficienti del cazzo complimenti chiesar non scegli da rifare il favore Non restituire il favore no Oh si vedeva attacchere con l'ossaggio E ho paura di sparare subito Casuale Chi è questa qui non la voglio Ma chi è questa qui non la voglio Ma chi è questo qui non lo voglio Ma chi è questo qui non lo voglio Ma chi è questa qui non lo voglio A me è casualmente capitato Capitata Amaru Amaru e sigarette Chiuse più ostaggio Amore per tutta la vita Ma sono quelle robe che si scrivevano Nel diario Ma in realtà se uno sa usare Feud A seconda di come metti La carica dell'inclinazione con cui la metti Ti lancia gli esplosivi in un mod Feud Puoi anche fezzare Ma sa non fezzare nella stessa stanza No ma anche nella stessa Tanto a seconda di come metti la carica Almeno era così Tecnicamente avevano ridotto la possibilità Di farle schizzare in giro troppo Che bella frase Avevano detto Ma come hanno detto che in FIFA non avrebbero fischiato La fine del tempo quando stai facendo un'azione Invece finisce proprio mentre sei davanti al portiere E' sicuro perché lo davano quando usciva la PS5 Quindi l'hai data forse l'attivo Prima che uscisse Quindi non l'hai avuto il gioco Non è ancora nel plus No lo è ma nel plus americano Sono tutti qui porca merda Mi sento in trappola questa mattina Possiamo fare No nel garage Ma come nel garage È stupida Che vuol dire Marco Approfondisci il concetto No ma lo sai che non mi piace molto approfondire No scusa scusa allora Non te lo chiedo più Guarda che ben ti deve stare in giro No ma ragazzi io avevo il diario pieno di ste robe TVB TV un casino di B Chiamo Teso Che schifo Pieno pieno Chi è teso Ti giuro Mi è fidanzatina nel tempo aveva pittorato la porta con il mio nome Ho pensato più a un pisello dritto Adesso è teso Tesoro Sì ma io non le ho mai usate queste cose Però me le scrivevano Ragazzi è bucato il garage Ho molta paura No no Mary è teso Dicevano teso per abrivativo di tesoro Sì sì E tesoro non lo usavo No ma neanch'io Però me lo descrivo Cioè mi ricordo ho ancora i diari e mi scrivevano tutte ste robe Le mie compagne Che poi non avevo neanche tutto questo rapporto che mi potevano chiamare così Non so Era un periodo di strani Teso di underscore online Ecco mi hanno sentito anche in Calabria probabilmente Eri proprio in playboy No ma in realtà Aspetta adesso mi devo concentrare Moro che fai? Oh poppo Era sopra adesso Prima era sopra Dove era esattamente Moro guarda me Era lì Era proprio dietro quella teca lì Era Marcello lì Allora c'è Bandit che a meno di metà vita è sul punto C'è la botta là sopra che è rotta se volete Neanche teso tipo il romanesco No no era teso Proprio teso Ma teso tipo come si chiama Durello scusami No ma è teso Si dice io non l'ho mai usato però Tesoro teso Qua a Milano Sto presenta anche io la vita Ma teso è qualcosa di È teso nel senso Ma sì Moro sì È ovvio che è sbagliato Però come sbagliato teso Non sono cose da dire Ma teso vabbè È dialettale anche quello Ma perché non sono parole che dovresti dire infatti Ecco amo anche quello Però amo è già più normale Teso era veramente fastidioso Tipo amo Se smetti di fare smemorando 2008 magari Io avevo i diari pieni di queste dediche incredibili Ma tuttora ce li ho da qualche parte Le X-Side Hai ricordato le richieste di coppia sui bigliettini Non penso Non credo di aver mai risposto sì Io invece sì Una volta per sbaglio chiaramente Eh sì è col pane No a me c'era effettivamente il discorso del forse Di sì no forse Io sempre Mettevo sempre no perché Ma no Già che me l'hai detto così Dovete individuare Ma che schifo di frase Ti amo di bene Ti amo di bene Non vuol dire un cazzo Senti una sega vuol dire Ma come Franzi Eh io vi ho detto Io fino a una certa ero un conquistatore Nel senso che Meno male Franzi No in realtà non è vero perché In realtà non è vero perché Io come dicevo Quella che mi piaceva non mi si filava di striscio sempre Quindi le altre poi dicevo di no perché Mentre c'era una Non è che però non mi voleva mai Ogni buco era galleria Ma che postazione delle feci Che merda Ma era lì No c'è per loro poveracci Dovano difendere in mezzo Allora in realtà Vabbè il silassi può aprire Cracanghi No ma non è vero in realtà Non sono mai stato popolare o roba del genere Però quando capitava Dicevo di no perché era puntualmente Quella che a me non interessava E' un popolano Ma è sempre così Amiamo chi non c'era mai L'avresti fatta in gelosia? No ma non funzionano queste cose ragazzi Ragazzi è una posizione veramente del cazzo per lo saggio No ragazzi dai non è vero L'avevo palesemente preso il petto Attivo hell Addirittura una divinità scomoda Sopra questo spacca balle Oh mio dio Era sopra È suo Senti Dio Sono sdraiati sopra Eccolo lì Era quello che mi ha ucciso Quello lì C'è un altro signore Che è morto Il primo l'avevo colpito palesemente Doveva andare giù Eh vabbè mister Q Ma io non penso di aver mai avuto una relazione duratura Le medie Da dove te hanno sparato? Non avevo relazioni vere C'è neanche qui Credo sotto le scale Ma come è volato ragazzi È partito via giù dalle scale L'arma è fantastica Non è un nemico Dabbo clutch Tutti quanti lui Quest'arma è una delle migliori No Dalla finestra Dalle scale e a destra Ho visto l'ho visto Dov'è? 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 È lì Destra lo senti Si è l'ulto a casa mia L'hai fatta No Potevi fare cinque situazioni Ma non lo Veramente Moro ricarica Moro salvami Fuggi e salvami Moro Ma sì ma ragazzi Ma si è troppo piccoli Alle medie Troppo vi Moro se riesce a fare il giro Hai detto da me fa ridere Però Non capisci un cazzo Aspetta eh Però muoio Moro Portare l'ossaggio fuori Mi sto chiedendo Moro ma mettili un pugno d'aria in pace Con questo scena Un gossaggio Cosa li metto? E non fa usare Moro puoi anche stordirlo con l'accecante E volendo Usa gli accecanti E poi usa i pugni d'aria Vi usa l'ancora in caso? La mia Che pazzio Pensavo fosse ancora per terra Miravo in basso Ma dovevi prenderlo e portarlo fuori Io avrei dovuto prenderlo e portarlo fuori Guarda Mi fa male il bis Cosa mangia a pranzo? La polenta Cosa stia lì? La polenta La polenta Con il raghiù Che buone Mi ho fatto veramente la sagoma Che cazzo Ragazzi È nato amici Moro come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Filippo Ma per gli amici Carlo Sì perché ci va così Terzo Papaparabarabam Davo tu su tiktok Chi segui? Minchia Meno male che non ho tiktok Perché? Non ho tiktok Ma che ci sono un sacco di chef E secondo me manca solo Max Mariola su tiktok Grande Mariola Il mio vero Lui io sono veramente il fan numero uno di Mariola Io Io me li sto guardando Io me li guardo ancora No ma io Io li metto in loop la sera per addornire Per addormentarmi Anche se li fa a memoria ormai le ricette Le cose No sono sempre felice Di quando Ma poi ragazzi Che bicipite Che tricipite Che uomo Quello è Scusso una volta Mi ha fatto un bel uomo Max Mariola No però ha un bel fisico No è La versione brutta di Enrico Papi Però ha un bellissimo fisico Per esempio Ma sì Mi voglio bene È bella di Enrico Papi Vai in palestra e basta Nella sua vita Max Mariola Vai in palestra e poi cucina Fai video di cucina Credo Sì Adesso è un bel Bel signore Faceva anche gli eventi E così via Però ovviamente Visto la situazione attuale Non so Questa finisce E' un uomo affascinante Per altri motivi Al massimo Non credo sia proprio Il belloccio Non è il belloccio Enrico Papi Non era Non lo so Papi Ma Non è un brutto uomo No A me non è un bell'uomo Infatti Non è detto che è brutto Ma non è un bell'uomo Non lo definirei Bell'uomo Non so Adesso è migliorato In realtà Enrico Papi Marco Ma no Che successo Oh mio dio Una ciappola Mi arriva a camera Mi fotte Dobbiamo fuggere Per fuori No Amore Ma ragazzi Allora Allora Tu e l'ostaggio Allora L'ostaggio L'ho buttato giù io Me ne assumo La piena responsabilità Ma il secondo colpo Ragazzi Per favore Il secondo colpo Al di là Dell'errore Dello stagio Il secondo colpo Erano in fila Due persone Uno È possibile Che non è caduto Dei due Con un colpo gigante Di cali Non è possibile Non penso Che ci sia la collaterale Comunque Il primo dovrebbe cadere A prescindere Cioè Di cosa stiamo parlando L'ho trapassato Col colpo Non è la prima volta Ah non è cascato il secondo Ah nessuno dei due Non è cascato nessuno Il colpo è andato dritto Ma non è cascato niente Marco È la vita Questo è perché Non dobbiamo fare lo stagio Comunque Lo ripetisco Basta stare attenti Non ho capito Se non sei capace Vexor Ma Ma in frattempo Io non ho mai trovato Bombe Giocando con Con la ricerca Di Liezer Ma forse Perché è tolta Non lo so Ma non credo Io l'ho controllato Non è tolta Ma poi una volta Io sti giorni sto giocando Io sti giorni sto giocando Con Corn Memis Vector Così E uso la mia Di ricerca E a noi effettivamente Ci capitano giuste Mi sembra Capitano Bombe Siamo tranquilli Marco Scrivetemi Quando ho giocato Guarda che siamo Veramente divertiti Un botto Stesera Infatti ho fatto anche Tardi Il pomeriggio sto giocando In realtà Il pomeriggio in questi giorni Sta facendomi Eh il pomeriggio adesso sono su Assassin's Creed Valhalla Però la sera Se riesco vado Il pomeriggio me lo sto dedicando A Valhalla Perché lo voglio finire Prima di Morales E lì vedi Cosa ci hai abilitato E cosa no Dovreste avere la spuntazione Non ho letto Cosa hanno scritto Nell'altra chat Non li Il matchmaking È disattivato Vabbè Perché lo può attivare Solo lui No Era attivato Dovreste avere tutto Su E allora a posto E Crispy No Non sto andando avanti Con la storia di NBA Perché lo facciamo insieme Martedì Martedì andiamo avanti Con la storia di NBA Poi tra l'altro Amici Dovrò rifarmi il personaggio E rifarmi la storia Su PS5 Che tanto Vabbè dura No no Lo rifaccio per i fatti miei La storia Su PS5 Tanto non dura tanto La cosa brutta È che appunto Devo rifare il personaggio Cercherò di farlo Più simile possibile Visto Ho detto che capitava bombe Perché ci sei tu Quando tiro Ti do solo bombe Altrimenti aspettiamo Direttamente la PS5 Lo facciamo in live Solo che metti che arriva Troppo in line Martedì intanto che faccio Non so Devo fare NBA 23 martedì Quindi in caso Ti arriva martedì Io spero che ci arrivi prima Comunque No è lunedì No è lunedì No? Oggi No è lunedì Il 23 è lunedì Sì Perché comunque Sarà da aggiornare Sarà da Marco Ma che scelta Particolare Devo fare la missione Devo fare la missione Non ce lo voglio Ad usare capo Ha capito Sì No Sono stonks Penso che tu Non abbia detto Ti dico la verità Guarda Non lo so Ragazzi Se volete Aspettiamo La facciamo direttamente Su PS5 Grazie Elia Elia Grazie mille Mark Domani vuoi fare la live lunga Non lo so A me continuo a lavorare Io non lo starei puntato Anche domani Non lo so Adesso vediamo Ci penso Cioè ci penso più che altro Vi devo vedere cosa fare In caso faccio Assassin's Creed E il fatto è che Se faccio Assassin's Creed adesso Farei la stessa cosa Che ha fatto Moro venerdì sera Quindi non so Non vuoi fare gli acusa Non posso Che faccio Faccio anche la seconda puntata Poi lì è veramente da balordi Se volete La faccio io Non si può fare Ma io la voglio Cioè no Se la faccio Faccio le secondarie D'Assassist's Creed In caso E magari fai Un'altra regione Perché io ho fatto tutto Le Derser Chires Le Derser Chires Ok Sì potrei fare magari Uno degli altri Una mattina No volta La volta sarà Ma poi Dio Dobbiamo fare anche C'è E poi Ah posso fare anche Graveyard Keeper Oh no Sì Ero scordato di Graveyard Keeper Se volete Faccio anche quello Si Si può fare C'è ancora Giveaway Distance Sì ragazzi Dovete anche partecipare Altrimenti siete sciocchini Perché potete vincere Una roba Rinforzate sul site Che ci sono ancora Un paio di cose da mettere Io ho messo i fifa points E non sapevo cosa mettere Io ho messo sempre la roba Da play Infatti vi do un sacco di gente Che lo fa veramente L'ultimo Di away Ma cosa vi costa Farlo Il primo C'è Non ci vogliono Due minuti Contate di rollo Ragazzi Avevo visto il robottino Sono pazzo Ma comunque appunto Ho messo i fifa points Perché volevo Yakuza Sassi iscritti Me li hanno mandati Quindi Non so poco Cosa prendere O proprio Ma sono un cannone Amici Chi è che è caduto Per terra Yezar Yezar è caduto Ucciso Ma lo sento casino Qua In zona Ho sparato nel culo Amici mi raccomando Participate tutti E link in chat Del mobot Participate tutti 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 Tanto E gratis Esatto Non mi costa assolutamente Niente Potete vincere Tanto Un gioco Krasic Lui Lasciamo perdere Krasic Ho visto uno laggiù E dov'è laggiù Moro Là Ragazzi Dentro al punto Ci sono solo io Lui Esco L'amore Era lì Che paura C'è Maru Là Oh porca merda Ce n'erano sette Tutti intorno a me A sinistra Vec C'hai a sinistra C'hai a sinistra C'hai a Maru Da quella parte lì E qualcun'altro C'hai a Maru Com'è che non c'era nemmeno Mi stava sparando Io l'ho sentita prima Adesso ti spotto a Maru Marco Probabilmente ti fa un buco Un'altra eh Rompe lì Ok C'è Maru Lì in fondo Bravi Intanto Ragazzi Il Lord Il Lord Che non ho ancora visto La nuova versione Io non mi sono spoilerato Eh ma è da tre mesi Che dicono La mettiamo ragazzi La mettiamo La lasciatola così Si vince così Stasera come ogni lunedì Farete Invitare Anche una signorina Ogni tanto potremmo invitare Sempre maschioni Eh beh Scusi Eh lo sai Marco Mi piace La Roby non la consideri Scusa Eh lo so Ma è l'unica Eh maschioni La Roby La live di Formula 1 Effettivamente Non l'abbiamo Congrammata Dove di teoricamente In realtà Non l'abbiamo ancora detto Agli altri Infatti è che giovedì Ci postiamo la live Non è rammato niente Proteggetela Per cosa Potremmo riprendere Fa la 12 ore Giovedì Ah figo Iniziamo alle 9 Vero vero Può essere Può essere La mattina no ovviamente La mattina Facciamo normalmente Però magari alla sera Se la spostiamo alle 9 Dovremmo ricominciare Il camionato Suf 1 Che io ho Il cosa Che vibra adesso No ma ragazzi Non è che ho detto Streamer a caso Gente che conosciamo Sara Ancora Auguroni Eh sì Auguroni Grossi Facciamo sapere Per formula Vido Perché ma che Mark ti ho sentito Sa Ok Meno male Perché se no Vuol dire che ero mutato Esatto Grazie di dio Davo dove sono? Credo che Davo sia morto Sì è morto Vabbè dai ne ho ucciso uno E stavo per uccidere il secondo Satana Unlucky Event A sinistra Magari posso sparare A sinistra A sinistra Ce n'è uno anche A destra hai Blackbird Ok a destra hai Blackbird Hai sopra Amaru Oh my god Ragazzi È entrato in cucina Amaru arriva dalle scale Bravissimo Ma questo che aspettava a uccidermi Io pensavo fosse uno dei nostri Ma che cuffia ha poi Tutte rosse Blackbird è sul No Mamma moro Che paura Blackbird sta facendo il giro Occhio che arriva Blackbird con le sue cuffie rosa Eh ragazzi è molto pericoloso Arriva dall'altro lato Blackbird È lì Vector Era lì Ok A destra A me mi ha sparato qualcuno Però Blackbird sul pin sempre Ok Occhio Non piccate Non piccate Stava entrando Lui sulla Davanti alla porta adesso Ok Ragazzi tutte le volte che invitiamo degli streamer È perché li conosciamo Non è che mi potete vedere Invita Guglielmo Schilla Magari Però non lo conosco Ragazzi vuole Farebbe un gran piacere Non lo conosco Troviamo qualcuno che si chiami Schilla Marco Veniamo io La Dea Might Vediamo È fatta No no Si è installato Anch'io Io no però Io dovrei avercelo installato Ma non avviarlo Mi va bene comunque Io ce l'ho installato Da quella volta lì Non l'ho mai disinstallato Ma non ci sto giocando Tabaculo qui Io lo inviterei Tabaculo Ci ho parlato una volta sola Eravamo diventati best friends E poi non mi ha mai Poi risposto Grande rapporto Incredibile Veramente Ce l'avevamo trovati un sacco Bene a parlare lì All'evento Poi non ci ha mai più sentito Ma era l'evento Quello nel negozio Nella casa La Samsung House Si quando ci avevo parlato Anch'io Allora Si era stato Era stato veramente Cioè abbiamo discusso Gli ho raccontato Cosa facciamo sul canale Abbiamo parlato di Però poi Non abbiamo mai più Non abbiamo mai più Parlato insieme Dobbiamo individuare una bomba Eh si vede che mancava Dubbo Eh magari era fan di Dubbo lui Sì 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 Io vorrei invitare Dread Vigil Alibi Che è Alibi Anche lui ce lo conosciamo Cioè ci conosciamo Ma per il web Non siamo personalmente Per il mic of the dance Il mic of the dance Sto sopra una mente Lei togli la roba Fatti due partite NBA con Fedez Ma magari Federico se vuoi È l'unico che fa NBA Uno dei pochi Fedez mi piace un sacco Mi sta simpaticissimo Le live non mi seguo assolutamente Io le guardo Allora io ti dico Anche mollura Sono anni che dobbiamo fare roba insieme Con mollura Ci siamo messi d'accordo però Ti hai scritto su Discord Che ci facciamo una live Su NBA PS5 Marco corri subito Moro? Io dentro me ne sbatto L'ho vista No scusate Vedete che in streaming È una gran persona Ma anche fuori in realtà Non ho visto il problema Ha fatto veramente Molta più roba Benefica lui In questo periodo Che tutti gli altri Personaggi famosi Messi assieme Comunque Uno diceva Vabbè Ericco lo può fare Eh però Anche gli altri Però non l'hanno fatto C'è che Ericco lo fa Poteva fregarsene Io l'ho prestato Poi ognuno è libero Chiaramente di odiarlo O meno Ma io non capisco Chi mi sta sparando In questo round Non ho capito niente Niente ho capito In questo round Karim l'abbiamo già invitato Su Fall Guys È una finzione Karim l'abbiamo già invitato Poi lo possiamo invitare Ma bisogna sempre scendere La musica con la persona No Mi ha tornato solo Sì Avevo una canna A qualche parte No ragazzi Non scrivete nomi Di twitcher A caso Scrivi Che interessano a noi Li mettiamo noi In caso Sasha Gray Sasha Gray Guarda che Io ho seguito Qualche sua live Ed è veramente No Non dirla A me non piace Cioè no Non è vero Non è vero Mi sono confuso No è veramente simpatica Lei Sasha Gray Sembra simpatica Nel se l'abbiamo già invitato Ragazzi Come streamer Budi l'abbiamo già invitato No vabbè Però Dico come persona Sarà che poi Io ho visto le sue live Di cucina E No per favore Non farle mai Ma Shooter Non è che devi scrivere Roba Shooter No non so cucinare A parte che non è vero Che conosciamo due persone Con due mani Per tagliare La carota Ma non Non ti abbiamo chiesto Di scrivere Per più Shooter Sì infatti Uno non è vero Due non te l'abbiamo chiesto Un sacco Di nome Che ho anche visto Ma non li conosco Di persona Non so Non vado a invitare Uno che sento La prima volta In live Che magari Anche è imbarazzato Magari anche si Poi sarebbe Non sono il tipo Di persona Che va Oh Andate tutti Da quello Streamer E ditegli Vuole fare Una live Con i termosifoni E mando la gente No perché fa anche schifo Si permette Eh minchia Preferisco sentirlo Per infatti no C'è cosa C'è C'è la merda Il mio Qui sono Prima magari Cristina Scabbia Per esempio Invece Mi piacerebbe Conoscerla Come ha fatto la Roby Esatto Però prima la conosci Però appunto Prima la conosco Abbiamo già il punto Di approccio Quando si una scabbia Noi C'è un emote Del terreno Marco Le c'è il terreno Cristina Più di quello Chiede a Budi Budi la conosce Ma Budi mi sta antipatico Posso chiedere a qualcuno Che mi sta simpatico Si no Hai ragione Budi non lo voglio frequentare Se può Provate la bomba Da quando si deve sposare Basta Sparito completamente Povera ragazzi Vabbè ci sta Ma Mi sono ricordato La donazione di Mora Jessica Nigri Ma io me la ricordo Come fai Scusa Faccio un buco ragazzi Ma che anche Era la trottina Ma lì E' la zanima Qua no Perché noi Non li conosciamo Di persona Ci siamo scritti Un paio di volte Ma non possiamo dire Di conoscere Dietro di te Qualcuno Però volentieri C'è nel senso Ci mancherebbe Però C'è un sacco di genti Di Evox Che volete invitare Ma noi non è che Conosciamo tutti Quelli di Evox Ma ripeto Perché sono nel metro Però li conosciamo A prescinto Volentieri Faccio le live Con tutta la gente Che stimo E che apprezzo Però prima vorrei Parlarci un attimino Oh mio dio Questo era sotto di me L'ho colpito Ma non è morto Quello qua Perché in Evox Ragazzi Ci sono tipo 150 talent Dentro Mark ma chi ti sta simpatico Il panettiere sotto casa Ma che vuol dire Da base Da appoggio Però contattare Non abbiamo problemi Posso scrivere Posso scrivere anche a ninja Ma non lo conosco Quello Non vado da una persona A dirvi Così Ragazzi State capendo Cosa stiamo dicendo Non stiamo dicendo Non stiamo dicendo Ci stanno antipatici Perché Dite le cagate Ma mi stanno simpatici Tutti Tutti a me Non è che lo conosco Non ci sto io Adesso Non ci può fare Mi stanno simpatici Un botto di persone Ma preferisco Invitare gente Con cui Magari c'è un O dell'intesa Nel senso O lo conosco E abbiamo dell'intesa Non che ci ho scambiato Due parole una volta E quindi non Perché magari poi dopo Si va a fare anche una live Imbarazzante Ma è chiaro Se in quelle volte Che ci abbiamo parlato Due secondi Magari Volevamo organizzare qualcosa Perché c'era la voglia Di entrambi di fare qualcosa Magari ci si conosce Anche nel frattempo Però È già diverso Perché c'è una volontà Di entrambe le parti È una cosa Che tutti e due Hanno piacere di fare E eccetera eccetera Ma A caso Mi sembra poco stupido No ma Ma a caso Poi c'è anche Non capivo Non possiamo sapere Che scherzate sempre Ragazzi Non dovete capire anche Che state scrivendo Un messaggio Dove non c'è Dell'intonazione vocale E non vi conosciamo Spesso non si capisce Quello che Volete intendere Se non Ora sei tu che Non sai leggere Con la gesta Intonazione Ma è forse Più veramente Magari si Proviamo Allora Aspettate Allora Proviamo a leggere qualcosa Esatto Anch'io metto sempre Il capo Alla fine Quando è ironico Esatto E poi Sembra che siamo Contro le collab Ma ne abbiamo fatto Un botto Ragazzi Nella nostra vita Allora Io c'è da dire Che sono un pochino Contro le collab Io no Ma se No Per un Per una mia Cosa Nel senso che Io ho sempre paura Di far sentire a disagio Le persone Porca vacca Quindi Lo trovo veramente Stressante Fare Io invece Penso sia La roba La roba Che mi piace di più Del lavoro che faccio No ma Dopo Una volta che Le faccio fare a Marco Io Cioè le faccio Fare a Marco La parte di Invitare Perché Perché Ma ci sta Anche non è parte Del tuo carattere Io mi Io mi Mi sento sempre Di dar fastidio È una cosa Che mi devo togliere Perché Ma è parte Del tuo carattere Non è che Un difetto C'è No no Ma Infatti Però Appunto Mi sembra sempre Di dar fastidio Quindi Ho un sacco paura Di Mi sento veramente Di approcciarmi Perché magari Gli sto sulle palle Quindi non gli dico niente Ora attento Non so dove ti stai sparando Eh non lo so No è lì dove stavi sparando Ma non so Eh lo so Ma come dicevo prima Per esempio Amerei far Io ragazzi No No C'è Alibi Da lì ti arriva Alibi Marco Da dove? Da qui? Da quella qua Dalla porta Dalla porta Eccola lì Che è passata Salutando Ragazzi Non è morto Ma veramente Un colpo in testa E questo è un amore Dietro 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 No ma neanche Non è che Penso che il mio caratter Cozzi Con quello dell'orbit C'è quello lì Poi Ragazzi Però non è possibile Ragazzi Ho preso Tutti Tutti Ho preso L'ultimo l'ha atterrato A me pareva L'avesse atterrato Ah no Boh No no Era ancora in piedi Dopo Un colpo in testa Magari Era negliati No Invece a me Una cosa che piace tanto Ovviamente È fatta con criterio Come dicevo prima A me Rayfall Qualcosa con Dread Però non ci conosciamo Di persona Ci siamo scambiati Due caccate Ma non ci conosciamo In realtà Vedi quello che è successo Il torneo di Apex È stato fantastico Cioè non era solo Evox Era Twitch Italia C'era Melagodo C'era Red C'era Gabbo E quelle cose lì Sono molto carine Abbiamo anche Alla fine è arrivato Anche Al In live da noi Al è stata una bellissima scoperta Per esempio Ah io ho sbattuto il G-Nech No Mauro che dolore Io non sapevo che ci seguisse Al Devono avere anche senso Perché alcune persone Non è che puoi accettare Qualunque cosa A prescindere Per esempio Al Con Al potremmo organizzare Domani qualcosa Solo che vogliamo anche Trovare una situazione Più adatta E fare una cosa per bene Magari ci prendiamo una serata In cui magari lo spammiamo Anche Cioè mi piacerebbe Fare una cosa per bene Con Al A parte che lui è simpaticissimo Ci farei anche robe Non di Apex Sinceramente Mi sembra Un ragazzo Talmente dolce Anche Lino mi ha chiesto Ma Lino volentieri Anche Lino vuole giocare A TTT con noi Sì Sarebbe figo Anche organizzare un TTT No non sto tradendo Ron per Dread Con solo Stima che conosciamo Sarebbe figo Il fatto è che comunque Devono imparare le regole Però Lino Secondo me Sarebbe un imbecille di merda Che non capisce Molto probabilmente Sanno già le regole E' anche molto più facile Perché sono Vitilino Io sono sicuro Insomma Vitilino di se saranno le regole Cioè comunque Te la puoi trovare Sai cosa è che Io e Lino Siamo identici Quindi Metterci insieme In una live Secondo me è pericoloso Di quel tipo lì Ma Lino Siamo veramente La stessa persona Sicuro Io voglio anche Tarlo Su TTT Eh lui non lo conosco Per esempio Voglio Voglio anche Tarlo era quello Che mi chiamava Cossiga Anche se io Max voglio Voglio anche Max Non credo di averci mai parlato Con lui Se non Tipo quando è venuto qua Che gli ho parlato Ne volete fare un'altra Su Eh no È l'una Stoppiamoci qui E vada via il chat Tra l'altro Vedi per esempio Lino Sono tutta gente Che è piccolina E ci fa anche piacere Farla conoscere Vabbè ma non è Non è quello L'importante Infatti No volevo dire Proprio quello Che Non ce ne frega niente Che deve essere Top streamer Lino è tascabile Effettivamente Lino è tascabile È alto un metro e trentadue Lui no? Così Circo Più o meno Circo un metro e quaranta Però appunto È bello anche Perché appunto Le collab che vogliamo fare noi Non sono per interesse Altrimenti non Cioè Quante volte abbiamo invitato Gente più piccola di noi Lo facciamo continuamente Chi se ne frega Anche perché Cioè Per chi segue Nel senso Cosa preferite Grazie Axel Grazie Axel Preferite una collaborazione Con gente Che conosciamo E quindi possiamo Ricamarci sopra Una Una live A modo E quindi Un contenuto divertente Anche se queste persone Non portano Chissà che gente Esatto Oppure Gente Che poi sarebbe Magari Magari facciamo solo Tutti e due Che trovi gente Con i numeroni Che ti ci trovi Anche bene Quindi Un contenuto divertente Però Non è sempre possibile Naturalmente Anche tipo Karim è nostro amico Potremmo invitare Quando vogliamo Ma Se non Vediamo una situazione Per cui possa avvenire Una cosa divertente Non è che lo facciamo a caso Poi a volte Non lo invito Perché mi dimentico Tipo FIFA Vorrei invitare Karim Su FIFA Dall'anno scorso Non lo sto facendo Ma Quest'anno perché Non lo sta neanche giocando Quindi non glielo chiedo Nemmeno Però Per dire Possiamo anche noi A volte che ci dimentichiamo Però Comunque Dread Quando vuoi Amici Noi Noi torniamo a giocare Ad Assos in Cris Bello Faremo questo pomeriggio Stasera con Fall Guys Stasera Fall Guys Vediamo se c'è qualcuno Altrimenti Vi cliccate Noi tre O Corvo Se ciò voglio di venire Ciao Belletto Grazie a Dabo Grazie a Vec A voi Grazie a loro A loro Grazie a loro Grazie a tutti